e bella giudì ragazzi sono Minimatte e bentornati in questo nuovo video, oggi ragazzi sono su salva al mondo e c'è questo certo è noto Latukmar che è un tale amico che ha truffato un altro mio amico allora scusatemi mi avevano scritto allora questo ragazzo qua ha truffato un mio amico e quindi gli recambierò l'altro fa da quello che so dovrebbe avere un po' di armi quindi vabbè niente ora vado a lui e gli dico oh ciao Fra ecco ci sei? si si dai andiamo a scambiare allora aspetta un secondo che mi scrivo un mio amico ok scusami vieni qua dove hai permesso? eh aspetta allora aspetta un secondo prima andiamo là poi ti dai permessi ah perchè sennò non si può scambiare va bene allora ti inizio a chiedere allora che vuoi? eh ecco un po' quello che hai vieni pure qua dentro allora vabbè se ti permessi allora eh prima di tutto ti voglio chiedere un secondo aia l'occhio ok scusami allora ti voglio chiedere un secondo eh prima di tutto carmi scambi allora se vuoi ti posso dare lo ti metto si si ti vanno bene le due scava fosse? allora dai vai bene però comunque ti faccio vedere allora ho questo poi ho questo e se vuoi ti posso anche dare questo no 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 allora aspetta aspetta un secondo per ora sono interessati di quei due scava fosse tini secondo quello lì ma se lo facciamo dopo ok va bene va bene lo facciamo un altro allora e allora aspetta scusami ma ti tolgo un secondo i permessi perdonami perché perché? eh perché fra devo droppare scusami no aspetta un secondo no mi si scusami scusami aspetta che cazzo succede? no fra fra non sto capendo aspetta no? cosa succede? no scusami ok no 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 allora aspetta un secondo allora io ti scambierai questa arma qua va bene fra? eh fra? dimmi dimmi fra? dimmi 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 non so cosa sia successo facciamo un altro scambio se vuoi vabbè non mi permesso almeno aspetta un secondo fra che mi chiamano sì sì arrivo oi raga allora le prime armi truffate perfette raga due scavo fosse 130 vai 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 spero che abbia qualcos'altro allora eccomi scusami perfetto perfetto allora dimmi hai qualcos'altro da scambiare c'è qualcosa da scambiare allora ora non mi li togli tra i tre messe allora ah no no perché quando scambio vabbè quando scambio sì perché devo piazzare le armi sai no se vuoi ti posso dare ah dimmi un po' dimmi un po' sì sì che 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 cazzo è fammi vedere 12 ah vabbè 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 poi però ho un regalo a qualcuno un godzer aspetta un secondo e com'è al 130 sì ok allora per caso hai anche della legna sì non ho solo del mattone però per il resto ce l'ho quindi posso dare 360 e 300 fra le armi cosa non ho capito no pure i materiali scusami mi dammi le armi i materiali no però cioè no non so cosa sia successo ma qui avevo droppato il mio bulldozer e tipo eh no ma sai che mentre droppavi mentre droppavi credo di avere visto che scomparivano sai buono sosti bug allora vedi hai qualche altra arma da scambiare o no non ho più nulla mi dovresti ridere le armi però eh fra io non ho nessun'arma te l'ho detto cioè ma no no fra fra cioè ma eh no io non ho più nell'inventare le armi che avevo prima eh non so cosa sta succedendo ma non mi è scammato ma vamo vamo e si gode e si gode e si gode